Lo scavo archeologico è per definizione un'attività distruttiva poiché comporta l'asportazione di tutti gli estrati, cioè delle azioni, dai più recenti ai più antichi. La possibilità di ricreare in un contesto virtuale le azioni che hanno interessato un determinato sito, siano esse eventi naturali o antropici, riproducendo visivamente quanto nel sito stesso non è più tangibile, rappresenta una vera opportunità. Il progetto di ricerca mirava a restituire al pubblico l'evolversi della relazione tra uomo e ambiente attraverso una ricostruzione tridimensionale. Il sito scelto, quello del monastero di Sant'Ilario a Dogaletto di Mira, è un sito molto complesso che ha subito profondi cambiamenti nel corso del tempo. Oggi Sant'Ilario appare come un piatto campo coltivato a mais. In precedenza, però, mille anni fa, tutto era estremamente diverso. L'area si presenta così, come oggi, come una distesa di campi coltivati circa dalla seconda metà del Cinquecento, in seguito a delle bonifiche. Durante il Medioevo, però, proprio qui, sono accaduti numerosi avvenimenti naturali e antropici, come inondazioni, impaludamenti e guerre, e la morfologia del territorio è molto cambiata. In particolare, con la diversione del Brenta nel XII secolo, proprio qui si è riversato un vasto apporto di sedimenti, con la formazione di paludi e l'interramento dei fiumi che in precedenza scorrevano e rendevano l'area fertile. Fu proprio grazie alla fertilità del territorio che, nel periodo alto medievale, qui scelse di trasferirsi, dall'819 d.C., la comunità monastica di San Servolo. Ma la memoria storica di questa successione di avvenimenti, dall'Alto Medioevo fino al 1500, andò ben presto persa. Il sito del monastero venne identificato per caso solo alla fine dell'Ottocento, in occasione di nuovi lavori di bonifica che portarono allo sbancamento dell'altura in cui il monastero sorgeva. La resa dell'alternanza di terra e acqua e di occupazione di abbandoni attraverso la grafica tridimensionale, grazie al supporto dell'azienda partner, ha rappresentato un'opportunità unica per restituire sia il dettaglio che l'evoluzione sul lungo periodo e per rappresentare l'evoluzione del rapporto tra uomo e ambiente. Nell'ambito del progetto di ricerca, inoltre, le attività di coaching e action research sono state impiegate per l'analisi di strategie complementari alla prototipazione digitale per la divulgazione archeologica. Il racconto degli sterri condotti alla fine del XIX secolo e dei loro protagonisti è stato trasformato in un testo teatrale che aiuta a riflettere sui diversi usi del passato nel contesto nazionalistico e positivista dell'archeologia ottocentesca, così come oggi.